Il cibo tradizionale è un sacco patrimonio di comunità e chi può darci già qualche parola su questo argomento se non il professor Marco De Vecchi che sarà un relatore oggi al convegno? Sì, volentieri, il cibo e paesaggio, ovviamente calato qui nella realtà delle Langhe e del Roero. Si tratta di un binomio, potremmo dire straordinario e indissolubile, laddove davvero storia, tradizione e cultura si fondono assieme. La realtà dei prodotti tipici del nostro territorio trova poi in cucina e nei piatti, nelle ricette tradizionali davvero un punto di collegamento straordinario e proprio nella realtà delle Langhe questo tipo di binomio ha trovato espressioni straordinarie. Teniamo conto che i prodotti agricoli tipici, tradizionali, sono numerosi di questo territorio. Certamente partiamo dalla vite, dall'uva e poi tutte le trasformazioni che ne seguono, ma se non altro le nocciole è un'altra realtà straordinaria, così come tutta una serie di ortaggi che fanno della cucina di questo territorio davvero un'eccellenza a livello non solo nazionale. Qui nel castello di Magliano Alfieri, oggi con il consigliere delegato del club UNESCO di Alba Langhe Roero, il dottor Piero Giuseppe Goletto, un convegno, il cibo tradizionale, un sacro patrimonio di comunità, ma anche un momento per i giovani, un landscape boys, questa premiazione oggi di questi giovani. Ecco, i giovani e il territorio, un pensiero che vogliamo dedicare a loro. Fondamentale, fondamentale e ancora fondamentale, perché il territorio ha bisogno dei giovani, i giovani hanno bisogno del territorio perché questo li salvaguarda da tutta una serie di situazioni pericolose. e possono e hanno dimostrato di poter giocare un ruolo importante, di poter svolgere una funzione di interfaccia rispetto ai sindaci, rispetto al comune e soprattutto di poter assumersi responsabilità organizzative e operative e anche molto rilevanti nell'ambito degli eventi collaterali che sono stati realizzati in ambito Landscape Boys, progetto che noi desideriamo abbia nell'anno prossimo una seconda edizione. Una curiosità, Agnella Tanaro succede una cosa importante, i menù. Allora, i menù esposti a Agnella Tanaro sono una curiosità, io ho già fatto altre mostre e sempre destano curiosità per due aspetti, l'aspetto iconografico per la bellezza del cartoncino importante e poi la curiosità della lista cibaria. e stiamo parlando che il menù nasce del 1850, praticamente c'è la storia d'Italia, a parte che nella collezione ci sono anche tantissimi menù francesi, in quanto la Francia è quello che lei ha inventati, però è una cosa abbastanza interessante. E quindi Agnella Tanaro, da a, da che, fino a quando rimane aperto? Tutto il mese di novembre, sabato e domenica, ovviamente ingresso gratuito.